L'amministrazione comunale di Gubbio la considera una priorità, magari con un intervento per consentire il passaggio e il transito immediato e rifinire successivamente. La strada di collegamento tra via Leonardo da Vinci e via dell'Arboreto, quella che dovrà risolvere i problemi di viabilità soprattutto per venire incontro alle esigenze di pubblico intervento legate all'ormai prossima presenza della caserma dei Vigili del Fuoco, dovrebbe dunque diventare funzionale a breve per il transito nelle intenzioni della Giunta Stirati, pur nella dovuta attesa del passaggio legato al bilancio di previsione. 600.000 euro circa è il valore di questo intervento, così come annunciato nel marzo 2013 dall'allora sindaco Guerrini, fondi derivanti dalle premialità di Bandi Suc, fu spiegato allora annunciando il termine dei lavori per la fine di quell'anno. Oggi è tutta la viabilità dell'area che lamenta difficoltà e dal prossimo dicembre, almeno questo è l'auspicio, a questo si aggiungerà l'operatività della nuova serie del distaccamento di Gubbio dei Vigili del Fuoco, realizzata da privati titolari di un'apposita convenzione con il Ministero dell'Interno. Lavori di costruzione che sono in fase di realizzazione avanzata, con l'obiettivo, come detto, nelle speranze degli addetti ai lavori dell'inaugurazione prevista per la prossima festività di Santa Barbara, il 4 dicembre. La palazzina è strutturalmente completata, mancano all'appello l'impiantistica interna, la recinzione e il piazzale esterno. La nuova caserma è di dimensioni adeguate non solo per la logistica del personale, ma soprattutto per la rimessa dei mezzi di intervento, nella sede vecchia decisamente inadeguata. Questo consentirà, almeno si spera, una maggiore dotazione ora impossibile per la ristrettezza dell'attuale garage.